Sono stati più di 8.200 gli allievi di oltre 300 scuole piemontesi che nell'anno scolastico appena concluso hanno visitato Palazzo Lascaris, sede dell'Assemblea Legislativa. A questi si aggiungono 17 delegazioni, 6 gruppi e associazioni, 12 comitive di cittadini che complessivamente portano oltre 9.000 ai visitatori. Il Consiglio è inoltre ospitato numerosi interscambi tra studenti italiani di altra nazione, tra cui i corsisti del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro CIFOIL.